Ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti su Salt Che cavolo è Salt? Bene ve lo spiego subito Finalmente si è un gioco dove posso dirvi qualcosa di concreto Perché l'ho un pochino provato Non tanto eh, ci ho giocato 5 minuti Però ho letto qualche informazione al riguardo Ehm, è un gioco di sopravvivenza Noi siamo un naufrago Che si trova su questa isola Intorno a noi ci sono, vedete, altre isole Si vedono anche là in lontananza Eh, là ce n'è un'altra E la nostra missione è riuscire ad esplorarle tutte Sopravvivendo il più a lungo possibile Se qualcuno di voi volesse provare questo gioco Credo che molti di voi non ne abbiano mai sentito parlare Perché è un gioco Insomma io non ne avevo mai sentito parlare fino a pochi giorni fa Oh, una pietra stramba Eh, interessante Ehm, però Se alcuni di voi dovessero essere interessati nel provarlo Il gioco si compra nel sito degli sviluppatori Però è disponibile una prova gratuita Quindi se qualcuno di voi lo volesse provare gratuitamente Lascerò il link nella descrizione Ehm Ora Iniziamo subito È un gioco di sopravvivenza Alla Minecraft Si può fare una marea di cose Costruire oggetti Vedete, questa è l'interfaccia È molto semplice ed essenziale Ehm Noi a questo momento possiamo già Costruirci Se io riuscissi a Sì, ok Possiamo costruire Ehm Una mazza La mazza Da quanto ne so io Dovrebbe Essere utile Per Picchiare una varia serie di cose Ehm Ehm Vediamo un po' se ce l'abbiamo Eccola qua Ehm La nostra prima mazza Guardate com'è bella e sexy Eh Ha la forma di un Un ornitorinco Possiamo randellare gli alberi E forse possiamo randellare Aha Possiamo randellare anche questa pietra Eh Prendi pietra dalla forma Oh L'ho rotta? Ma dato della pietra? Beh giustamente è una pietra Ehm Ehm Brutta pietra Va bene Ah, per andare nel mare Nel mare maroso Noi abbiamo bisogno di craftarci Delle Una barca O più di una Ma Una basta Ehm Purtroppo io non ne conosco Non ho idea di quale sia la recipe Per craftare una barca Ehm Lui ci viene un po' in aiuto Con questa guida Che abbiamo qui nel menu Ehm Dicendoci un po' la recipe Come si crafta Diciamo Tutta una serie di oggetti Ci dice come si crafta Per esempio Il piccone Il campfire Delle pozioni Della Cloth E ci dice anche come si craftano le barche Le barche più semplici Vedete Ehm Per esempio questa La prima Si crafta con sette Tronchi E due di Cloth Quindi Ehm La Cloth a sua volta si crafta con la plant fiber Quindi la fibra delle piante Probabilmente la cosa più intelligente che possiamo fare A questo punto E andare a cercare la cesta del tesoro A quanto pare in ogni isola iniziale Ehm Ci sta una cesta del tesoro Scusate se vi ho fatto iniziare il gioco da dentro Perché volevo Ehm Ovviamente Farvi vedere anche il menu Come faccio sempre Però purtroppo Non ho potuto Perché c'è un piccolo bug Per il quale Perlomeno a me La schermata di caricamento Ci mette un'eternità Quindi Ehm Probabilmente verrà risolto Ovviamente il gioco in sviluppo Questo Ehm Mi sembra naturale Dovervelo dire Però è già buono il fatto Che potete provarlo Prima di eventualmente acquistarlo Ehm Io ho preso la versione finale Quindi non so Quali siano Ehm Magari scrive Se qualcuno di voi ci si mette a provarlo Scrivetemelo nei commenti Il gioco è molto carino però E sono sicuro Che avrà un seguito Infatti Sono sicuro anche Che pur se Voi non ne avete mai visto Credo che nessun italiano Lo stia facendo Ehm Sono sicuro che qualcun altro Lo farà magari vedendo I video che ho fatto io O qualcun altro Che inizierà Ehm Vedendo qualche video Di qualcun altro A sua volta Perché il gioco merita Merita Quindi sono sicuro Che avrà un seguito Eccola là La cesta Ok Dentro abbiamo Dei pezzi di clot Dei gold coin Altri log Del coal Carbone E della plant fiber Perfettissimo Abbiamo Raccattato qualcosa Questo è sempre buono Ora Ehm Ci sono dei nemici In questo gioco Però credo che Nell'isola iniziale Dove noi ci troviamo In questo momento Non ce ne siano Allora Allora Ehm Dunque Come si crafta La barca Questa Questa roba qua Ci fa fare Altra Clot Le plant fiber Ci fanno fare Altra clot Ora noi Avendo 3 di clot No aspetta 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 Allora Noi Volendo noi Per esempio Craftare la barca Io dovrei andare Nel libro No non questo L'altro Perché abbiamo due libri Uno inutile Uno utile Fammi andare in quello utile Questo qua Allora Ci dice Che abbiamo bisogno Per craftarla Di 7 logs E 2 clot Se io volessi Però craftarla Come dovrei fare Cioè Questo non lo so ancora I logs Noi ce li abbiamo Però non voglio Ah aspetta Sono ste frecce No No E allora Come si craftano Le barche E questa cosa È strana Eh Non Non ho clue Non ho proprio Non ho un indizio Perché c'è la schermata Cosa è questa Ah i gold coin C'è la schermata Della barca Vedi Schermata boat Però noi Non abbiamo Una boat Chiaramente Quindi Come cristissimo Facciamo A Produrre Una boat E albero Se si picchiano Gli alberi A volte ci dà Dei frutti Questo È una scoperta Importante Che ho fatto Prima Però Non capisco bene Quali Quali Perché alcuni Danno frutti Altri non danno Un cazzo Quindi bisogna picchiare Solo quelli che danno frutti Perché alcuni alberi Sono molto ingrati Altri invece Sono generosi Gli alberi generosi Si chiamano Gianni Gli alberi ingrati Si chiamano Marcapo Perché è un nome brutto Nessuno vorrebbe Chiamarsi così Infatti sono ingrati Perché la vita è stata ingrata Con loro Dandogli il nome Marcapo Dai Marcappi di merda Sono tutti Marcappi Però qua Non c'è neanche Non c'è neanche un albero Gianni Albero Porca puttana Albero Gianni Albero Gianni Tu sei un albero Gianni No Eh Eh lo sapevo Un albero Gianni Grazie Albero Gianni Ne dai altri? Posso avere un po' Più di frutti? No Forse è questo qua Frutti 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 C'è nessuno Vaffanculo Oh Un altro log Questo era migliore Anche Qua Frutti Fanculo Non voglio più frutti Siete tutti marcanti Brutti Date a cagare Fammi Fammi esplorare un po' Io vorrei andare a esplorare Un'altra isola Perché Deve essere molto fico Ma come si fa? Vedete C'è il menu E tutto questo E la Oh cos'è Una Una frutta E la frutta di prima Questo è l'hardwood L'hardwood serve per fare Le Le cose Le Le barche migliori Il legno Praticamente Il legno più buono E se io volessi Per esempio No Se io volessi Craftare No Non voglio craftare La mazza Però forse Ah Ecco Bisognava aggiungere Tutti gli ingredienti Vedete Ok Voglio craftare La barca Allora Una Eh No Due Eh L'abbiamo craftata Ah ragazzi Madonna Cos'era quell'altra cosa Ho visto un'altra Vabbè Non importa Abbiamo una boat Ma è una zattera Non è una boat Ora dobbiamo decidere Dove prendere il largo Perché potremmo Prendere il largo In diverse direzioni Abbiamo tutto intorno a noi Abbiamo altre isole No Nel vero spirito di naufraghi Siamo in un arcipelago No Siamo Robison Lions Quindi Noi dobbiamo esplorare Tutte le isole E trovare la salvezza Che non c'è Perché il gioco ancora Non prevede una fine del gioco Come minecraft No Alla fine ci sarà un drago di merda Che ti sputa fuori una storia del cazzo Oh ecco Là c'è un frutto Cioè L'ho visto Ehm Da Ui L'ho buttato Da Oh Non dà il frutto Forse è questo Eh Lo sapevo Madonna Quello là era un Gianni E vedo di là una bella isola Quindi io direi che possiamo Eh Un altro frutto Dammi Allora Credo che qua Cioè abbiamo esplorato un pochino Però Guarda quell'isola là Com'è bella È grande Andiamo in quella Mi sembra migliore Mi sembra Montagnosa Strana anche Proviamo E comunque Stavo dicendo ragazzi Molto importante Come faccio Oh Eh È bugata No È meno bugata Di quella di Eh Ma se ne sta andando Senza di me Se ne sta andando Non te ne andare Senza di me Ok Oh Eh Come si fa Oh Ehi No no Devi girare Girare Non di là Di Girare Non di qua Aiuto Oh sto girando Ok 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 bravo Basta Come cazzo Eh no Di G No G Devi girare Stiamo tornando indietro Oh Cristo santo Come si fa Come si fa a pilotare Sto cazzo Ah Col mouse No Stiamo per andare G Eh Cosa sto facendo Aiuto Aiuto Ho difficoltà Perché i controlli Sono invertiti Ok Voglio andare In quella No Di qua Così Bravo Attenzione Ok Ancora un po' No di là Bravissimo Così Più o meno Ancora un pochino Spero che non ci siano Dei lupi mannari Su quest'isola Perché sembra molto No un po' Un pochino Selvatica Rispetto a quella Iniziale No Devi girare Più in qua Cazzo Eh Ma no Non così Di meno Ecco così Dovremmo arrivarci L'isola di tortuga Quella là Ci sono i pirati Gira in Porca puttana Perché fa storta C'è sta corrente E stiamo andando storti ancora Gira Madonna signor Gianni il naufrago Ti chiamerò Sei troppo poco Mabile con la boat Devi fare Più Pratica Quest'isola è strana Guardala là Come faccio a ritirare La mia barca adesso Che la fermiamo Prima di tutto Anche se non si sa Con cosa stesse andando Ma la vela c'era Oh si che c'era Fantastico E mo come la recupero Ehm Ah Così Credo che Cioè si è già recuperata O forse non la posso riprendere Deve restare lì per sempre Oh Un altro log Fammi Fammi riequipaggiare la mazza Che non si sa mai Magari incontriamo qualche Fettente No qua Autoctono Ah ma non si può Oh no E' troppo ripida Aspetta qua si può andare però E queste parti Che sono difficili da 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 salire Tutte le isole Eh Un autoctono Porca puttana Lo sapevo che Prendi le botte Aia Oh Aiuto L'autoctono Devi Morire Lo sto sconfiggendo No Eh Eh L'ho sconfitto Porca puttana Autoctono Aveva dei soldi Ma anche un'ascia Io voglio l'ascia Sto morendo però Magari se mangio un frutto Miglioro Ho migliorato Sta ancora masticando Senti meglio Non mi pare Sta sempre morendo Se troviamo un altro auto Oh cos'è sta roba Grab Cos'è un grab Ah è un esca Ma che schifo Che cazzo era un verme Che schifo Oh Ci sono altri autoctoni Eh ma un altro autoctono Potrebbe ammazzarmi Io non voglio morire Andiamo in un'altra isola Ragazzi Questa qua è troppo fetente Dov'è la barca Barca Ah è di là E comunque vi volevo dire Ragazzi anche Eh che vi chiedo il vostro sostegno Come in ogni serie Possibile serie Perché ancora non so se la faremo Dovete deciderlo voi Lasciando tanti mi piace Se vi piace Appunto Eh la serie Quindi così Vediamo un po' Se vi aggrada Perché fa rumore di Strano questo sasso Se vi piace la serie Io volentieri ne farei degli altri Su questo Magari Non tantino Lo so Vedete voi Ditemi voi Che cosa ne pensate Secondo me è un gioco Che merita Poi mi piace Perché è di sopravvivenza Ultimamente ne stanno uscendo vari Ma sono tutti abbastanza validi Ecco The long dark Per dirne un altro Questo qua mi sembra pure Decisamente buono Quindi fatemi sapere Lasciatemi tanti pollici in su Se pensate che la serie Possa andare Ecco Eh intanto voglio andare a vedere Un'altra isola Perché questa qua non mi piace tanto È troppo piena di autoctoni Gli autoctoni sono delle persone orribili Ok Allora Attiviamo la barca Come cazzo si faceva qua Giusto Così E ma Em Em Eh Mi sarei un attimo arenato Signora barca Come si può fare Eh Io vorrei Vorrei rimettere la barca Se è possibile Tipo Però non so Vediamo un attimo Va Allora B Ah ok Si può Si può Si può Si può Ottimo Oh Aiuto Non so nuotare Ho cliccato fuori dalla fine Aiuto No 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 Em Ok Oh bello Em Ah voglio Sta venendo la sera Il che è male Andiamo verso quell'altra isola Tipo così Perché il mare sta facendo questo effetto strano Ah la luce della luna questa Un po' buggata mi sa Allora Ma Eh Non avevo acceso la barca Fa un rumore strano Quando la accendo Allora Devo andare Un pochino più in là Dovrebbe essere Anco Oh E' buio adesso Non mi piace buio Posso fare una torcia Aspetta un attimo Ferma Allora Crafting Eh Tipo Se io prendo il pezzo di bambù Insieme al carbone Faccio qualcosa No E se prendo un log E' Una torcia Ma funziona Cioè si accende Secondo me no Oh madonna E' buio proprio adesso Oh non mi piace There is nothing Ah no Ma io voglio equipaggiarla Non voglio craftarla Eh Si accenda Si accenda Se vabbè Durerà tanto Dove dovevamo andare Ah di là Giusto Ok andiamo Che bello effetto luce Guardate là ragazzi Proprio bello Allora Eh ma Non si vede un cazzo Però Devo girare un po' di più E se ci sono Se ci sono autoctoni Nella notte Come Come Eh Aspetta un po' Che mi è già apparso Di vedere qualcosa Di là Eh io ho visto qualcosa Di là eh Su quest'isola Investighiamo C'è un autoctono Magari è pacifico Gira No forse Forse non c'è un autoctono Forse Il buio Mi ha giocato Uno scherzo Non mi pare Gira Gira un po' No no Gira Gira E